In principio furono le frasi sulla Sea-Watch che andava affondata, poi quelle sulla vicepresidente dell'Emilia-Romagna, Erich Line. Marco Gervasoni, 53 anni, romano, professore di storia contemporanea all'Università del Molise, nella bufera c'era già finito più volte negli ultimi anni, ma stavolta è accaduto qualcosa di molto più grave. Gervasoni è tra gli 11 indagati finiti sotto inchiesta per aver pubblicato sui social minacce al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un fatto enorme per il mondo accademico, tanto che stamattina è intervenuta direttamente la ministra dell'Università, Cristina Messa, che ai microfoni di Radio Capital è stata categorica. Io sono sicura che l'Università del Molise prenderà ulteriori provvedimenti e comunque lì solleciterò a farlo. Ce l'aspettiamo anche in tempi rapidi, ministra, perché questo è un caso veramente vergognoso, davvero brutto. E proprio stamattina il rettore Luca Brunese, che già ieri aveva espresso stima e profonda solidarietà a Mattarella, ha avuto un colloquio con la ministra dell'Università. Abbiamo parlato stamattina un attimo della vicenda, naturalmente abbiamo concordato che è una vicenda molto grave. Aspettiamo ovviamente l'andamento dell'inchiesta, noi siamo pronti a prendere tutte le iniziative necessarie attraverso gli organi accademici e tutto quello che i nostri regolamenti, naturalmente, le normative prevedono. Noi siamo proprio ancora all'inizio, nel senso che come Ateneo le uniche informazioni che abbiamo sono quelle pubblicate sulla stampa ieri. Aspettiamo di capire un attimo di che cosa si tratta per poi prendere le decisioni opportune. In questo momento il professor Gervasoni sta insegnando qui all'Università del Molise? No, lui in questo momento è in anno sabbatico, che vuol dire che non tiene i corsi e non è presente all'università per tutto l'anno. Ci sono state vicende precedenti, il senato accademico si è già occupato del professor Gervasoni, negli altri episodi che cosa è accaduto? Sì, l'altra volta ci fu una procedura gestita dalla Commissione Etica che ha mandato le proprie risultanze al senato accademico. La vicenda si è conclusa con un richiamo formale fatto dal professore Gervasoni e dal prolettore Vicario.